Guarda che questo ci scappa di mano, sta cercando visibilità politica personale, ha ragione, però va attaccato. Indagato per i migranti? Siamo indifendibili. C'è qui quella merda ma sono riuscito a non farmi vedere. Dire in bocca a magistrati che giudicano non solo me, ma magari domani anche voi, il fatto che uno va attaccato solo e soltanto per motivi politici non mi fa stare tranquillo.